Altri pericolosi cedimenti d'alberi, un ferito in via Gagarin. In 2000, le funerale della sedicenne Sofia. Un pensionato di Fossombrone muore in un incidente ad Ancona. Alle Gattile di Pesaro, la piaga degli abbandoni estivi. Cultura, vent'anni di Angartfest, dieci di angolo della poesia. Cultura, vent'anni di Angartfest, dieci di angolo della poesia. Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News. Telegiornale di oggi, venerdì 21 luglio, che apriamo con alcune immagini girate poche ore fa, che si riferiscono ad un cedimento di un grosso ramo d'albero avvenuto a Pesaro lungo via Gagarin attorno alle 15.45. Il tronco ha ceduto proprio mentre transitava una Fiat Panda con due uomini a bordo. L'autovettura ha finito per impattare con l'albero caduto all'improvviso. Sulle poste è arrivata un'ambulanza, però certamente ad uno dei componenti dell'auto che avrebbe rimediato ferite e lievi nell'impatto, presumibilmente a causa della brusca frenata. Sulle poste sono intervenuti i vigili delle fuoco per la messa in sicurezza della strada e per il dettaglio e rimozione delle componenti arbore pericolanti. L'episodio ha creato un ingorgo di traffico coinciso con l'arrivo della pioggia. Si tratta del secondo episodio di pericoloso cedimento d'albero in pochi giorni, dopo quello schiantato in via Cimarosa che ha ferito una ciclista. Alberi presumibilmente già maldorati che vengono ulteriormente rinsecchiti e indeboliti dalle temperature toride delle periodo. E vi mostriamo ora le immagini della commovente partecipazione cittadina che ieri ha voluto tributare l'ultimo saluto a Sofia. La sedicenne pesarese è venuta a mancare in seguito ad una malattia. L'accompagnamento dei bersaglieri di cui è stato parte Nonno Eraldo, Quello dei compagni di liceo della nuova scuola, dell'oratorio, degli amici scout, dei compagni di squadra del muraglia del fratello Davide, fino a centinaia di pesaresi di ogni età. Tutti toccati nel profondo dalla prematura scomparsa di Sofia Fraternale, venuta a mancare ad appena 16 anni. Riuniti in quasi 2000 persone nel campo sportivo di Loreto, nell'ultimo saluto a quella piccola stella restituita al cielo. Riuniti in un immenso abbraccio di conforto al dolore della famiglia fraternale. Di mamma Lucia, di papà Massimo e del fratello Davide, che da un anno e mezzo sono stati al fianco della battaglia di Sofia. Una battaglia contro un tumore diagnosticato nel febbraio 2022, due giorni prima del quindicesimo compleanno di Sofia. Una battaglia in cui Sofia è stata esempio del significato più profondo della vita, come ha ricordato Don Giuseppe Fabbrini nell'Omelia. Dove ad essere significativo non è quanto lungo vivi, ma la testimonianza che lascia la tua esistenza. E Sofia, nella malattia, ha vissuto la sua adolescenza con la pienezza dell'intensità che si deve al più prezioso dei doni. Un dono che purtroppo nel suo caso si è rivelato estremamente fugace. Un'esistenza breve ma piena, come ricordato dal florilegio di immagini radiose confezionato dagli amici a quella piccola stella. Amici al suo fianco nell'ultimo viaggio, omaggiato dalla musica, da palloncini bianche e gialli, dai messaggi di infinito amore scritti sulla bara. Così, come voluto da mamma Lucia, l'ultimo saluto è stata una festa capace di andare oltre lo sconforto, ma di celebrare un amore che sa essere più potente della morte. Una festa salutata da un lungo, lunghissimo applauso. Un 75enne residente a Fossombrone è morto ieri attorno alle ore 18 in un tragico incidente in autostrada fra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano in direzione Nord. Si tratta di Giorgio Lupini, originario di Chiaravalle, ma residente nella città forsempronese con la moglie Maria di 61 anni. Anche la donna era a bordo dell'auto ed è rimasta gravemente ferita nell'impatto che ha visto la loro Volkswagen e T-Cross venire fatalmente tamponata da un e-tir creando una carambola che ha coinvolto altre due auto, offrendo lievemente un'altra donna. Il 118, intervenuto sulle poste, ha provato in vanno di animare Lupini, mentre la moglie è stata trasportata in elieambulanza alle torrette di Ancona. E sono giorni di serrati controlli nei luoghi della Movida da parte della Guardia di Finanza di Pesaro Urbino. Fra la sera e l'alba sono stati controllati infatti diversi locali alle fine di verificare il rispetto della normativa sulle lavoro sommerso. Nell'occasione sei soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Pesaro per violazione della normativa sulle diritto d'autore. Inoltre sono stati individuati due lavoratori nel nero, mentre per altri dodici la posizione in necoloso di approfondimento. Ed è attesa per questa sera in Baia Flaminia la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, che alle 21 salirà sulle palco della Festa dell'Unità di Pesaro. Un intervento della leader DEM che segue la giornata inaugurale di ieri che approfondiamo in questo servizio. Elezioni comunali 2024, opposizione al centro-destra, ma anche approfondimenti su sanità pubblica e tematiche ambientali. Tutti argomenti al centro della Festa dell'Unità 2023 a Pesaro in Baia Flaminia, al nastro di partenza ieri sera giovedì 20 luglio, per una quattro giorni di dibattiti e condivisione tra il popolo democratico. Un momento vissuto come occasione di rilancio da parte del PD che al primo incontro sul palco, in programma alle 19.30, ha accolto la segretaria PD delle Marche Bonprezzi, il capogruppo PD delle Marche Mangialardi, il consigliere regionale Biancani e la segretaria provinciale Rosetta Fulvi. Un grande momento, io sono veramente molto soddisfatta come segretaria provinciale e mi congratulo con il PD Pesaro per l'organizzazione di questa quattro giorni, molto intensa, dove ci saranno momenti di confronto politico sulle questioni locali, regionali e nazionali e anche tanta socialità. Il PD è questo, persone che sono militanti, generose, che mettono a disposizione il proprio tempo e che dimostrano che la passione politica è proprio questa, cioè quindi stare tra la gente, mettersi a disposizione e offrire momenti di confronto e di dibattito. Ovviamente noi portiamo nei nostri momenti comuni, portiamo i nostri valori, i nostri punti di vista, la festa è aperta a tutti, quindi sono ben accetti coloro che la pensano come noi, ma anche coloro che invece pensano cose differenti oppure coloro che si vogliono informare. E comunque per noi rappresenta il momento precedente alla prossima campagna elettorale per le amministrative che il prossimo anno interesserà tantissimi comuni, comuni anche molto grandi come Fano, Pesaro e Urbino. Sicuramente una bella iniziativa, anche un'occasione per ritrovare le persone che sono vicine al centro-sinistra, ma devo dire che aver scelto di fare questa festa a Baia Flaminia secondo me coinvolge un po' tutti, c'è comunque un momento di festa, un momento in cui c'è un'occasione per confrontarci su quelli che sono i temi più fondamentali di questo territorio e sicuramente tra i temi fondamentali che verranno trattati durante questa festa c'è il tema della sanità. Come tutti sapete c'è la volontà da parte del governo del centro-destra di approvare il piano sanitario entro le ferie estive, è stata fissata ad oggi l'8 agosto come il giorno in cui dovrebbe iniziare la discussione. Noi come rappresentanti del Partito Democratico abbiamo espresso tutta la nostra contrarietà, secondo noi non c'è stato il tempo di poter condividere con tutto il mondo della sanità, dai medici, gli infermieri, alle varie associazioni, alle varie realtà che si occupano di persone disabili, perché è stata fatta in 20 giorni, praticamente si è voluto ascoltare un po' tutti i soggetti, ma quello che è la verità è che questo piano sanitario non ha un soldo, un euro in più rispetto a quello di oggi, non è prevista la possibilità di poter assumere il nuovo personale e quindi non si capisce come si riesca in qualche modo a dare la risposta soprattutto alle liste d'attesa, ai servizi psichiatrici, a tutti i servizi dove le persone sono costrette a rivolgersi fuori comune o comunque fuori regione, perché i servizi qui non vengono dati. Quindi un piano vuoto, senza aumento di risorse, senza la possibilità di nuove funzioni, ma che ha previsto, se pensiamo anche a quello che ha previsto, tipo la casa di comunità a Galantara, io sono convinto, come è successo per il centro per l'autismo, che alla fine si sono accorti che avevo ragione io che la centrale operativa e il centro per l'autismo erano incompatibili, si accorgeranno che non è possibile realizzare una casa di comunità a Galantara, perché nella casa di comunità dovrebbe mandarci il medico di base, un medico di base che dovrebbe fare riferimento a 100.000 persone, quindi i pesaresi dovrebbero avere tutto il proprio medico di base a Galantara. È pura follia, è un'incapacità di essere presenti sul territorio, di conoscere il territorio, una politica che non riesce a gestire le tematiche, che dà poi gli indirizzi al personale, che molte volte ovviamente segue quelle che sono le indicazioni della politica, ma indicazioni che sono veramente prive di logica. E proprio il Partito Democratico ha presentato una mozione per aumentare la disponibilità di posti negli asili nido, dopo che più di 200 bambini pesaresi rischiano di rimanere fuori dai servizi educativi per l'anno prossimo. Per l'anno 2023-2024 saranno tanti i bambini a rimanere fuori dall'asilo nido. Il Comune di Pesaro, come riferito tre settimane fa dall'assessore Camilla Murgia, ha ricevuto per settembre 469 domande ai nidi comunali, ovvero 93 in più dell'anno prima. Il risultato sono 238 bambini iscritti e 224 in lista d'attesa, ovvero quasi la metà che rischia di rimanere fuori dal servizio educativo. Per tentare di avvicinarsi a rispondere a questa esigenza crescente, il Partito Democratico ha protocollato una mozione per potenziare il servizio educativo 0-3 anni. Mozione che chiede alla Giunta una politica mirata ad aumentare significativamente i posti disponibili a contrasto delle liste d'attesa e soprattutto sollecita la Regione verso una fattiva compartecipazione economica. Il PD Pesaro sottolinea come la Regione stia contribuendo con un milione e mezzo ai servizi educativi delle intere marche a fronte di un Comune che investe quasi 10 milioni. Una mozione che dunque richiede il sostegno alla Regione per seguire quelle indicazioni che il Consiglio dell'Unione Europea chiede per dare assistenza all'infanzia almeno al 33% dei bambini sotto i tre anni e chiama i Paesi membri ad agire in modo che entro il 2030 almeno il 45% dei bambini di età inferiore ai tre anni partecipano ai servizi educativi e di cura per la prima infanzia. Pesaro ad oggi è già arrivata al 30%. E saranno circa 730 le famiglie in difficoltà destinatari delle fondo anticrisi che il Comune di Pesaro ha deciso di destinare per il 2023 all'emergenza a casa. Il cui bando sarà aperto alle ore 9 di lunedì 24 luglio e sarà attivo fino alle ore 13 di venerdì 1 settembre. Risorse che un anno fa furono rivolte al pagamento dell'Atari e che in questo 2023 vengono invece concentrate su un fondo affitti stanziato dalle Comune di 250 mila euro che consentirà di sostenere le famiglie attraverso un contributo che copre l'80% dell'affitto fino ad un massimo di 350 euro a nucleo. E sono ben 35 i cuccioli di gatto che sono stati abbandonati davanti alle gattile sanitarie di Pesaro in questi mesi estivi. Un comportamento censurabile che crea problematiche che approfondiamo in questo servizio. Si chiamano Meredith, Derek e Owen. Sono tre degli ultimi arrivi qui al gattile sanitario di Pesaro, zona Pontevalle di Santa Veneranda. Tre gatti abbandonati davanti alla porta della struttura in un trasportino per un fenomeno, quello degli abbandoni particolarmente grave, soprattutto in questo periodo di nascita di cuccioli, quello primavera-estate che qui al gattile a fronte di una popolazione già superiore ai 100 felini ha visto 30 arrivi concentrati in pochi mesi. In questa stagione primavera-estate di cuccioli sono entrati più di 35 gatti, la maggior parte dal lattare, fra parentesi, per cui con un impegno bello pesante perché allattare dei cuccioli vuol dire, quando ti arrivano poi soprattutto piccoli piccoli, vuol dire che ogni due, tre, quattro ore li devi allattare, per cui giorno e notte. Chiaramente i cuccioli da allattare noi non li teniamo qua in gattile, per ovvi motivi, visto che ci sono queste frequenze di allattamento, per cui ci riportiamo a casa noi volontari e provvediamo all'allattamento, lo svezzamento, li portiamo fino ai due mesi, quando è ora di fare il primo vaccino e l'applicazione del microchip, e poi sono adottabili, prenotabili, eccetera, eccetera, eccetera. Da noi gatti entrano tramite l'AST, per cui gatti randaggi, nel caso dei cuccioli, cuccioli trovati in giro, non autosufficienti, per cui hanno bisogno di essere sfamati. Normalmente ci entrano tramite l'ASUR, però ci capitano degli episodi di abbandono, tipo questi tre gattini che vedete qua dietro di me, che sono stati lasciati fuori dal gattile in un trasportino, o tipo i gattini che ci sono arrivati la scorsa settimana con degli occhi disastrati, che sono stati mollati in uno scatolone sotto il sole. Noi ci teniamo a dire che anche se non possiamo prenderli, i gatti, la gente si può rivolgere a noi, chiedendo magari una mano, perché comunque se ci sono dei gattini bisognosi, hanno alle spalle una mamma che ha bisogno di essere sterilizzata, perché altrimenti fra un mese e due mesi si ripropone lo stesso problema, no? Per queste persone. La gatta è incinta, partorisce di nuovo, per cui noi sono anni che lottiamo per la sterilizzazione, perché la sterilizzazione è l'unico sistema per arginare il randagismo felino, anche perché poi questi gatti, quelli che arrivano qua, sono la punta dell'iceberg, sono quelli che vengono trovati, i gattini. Quelli che non vengono trovati muoiono malamente in giro, sotto il sole, mangiati dalle mosche, in condizioni pietose, si ammalano, per cui insomma sarebbe importante partire a monte dalla sterilizzazione. Poi per il resto, ripeto, noi anche se non si possono prendere chiaramente gatti al di fuori di quelli mandati d'Ast, cerchiamo di dare una mano. La speranza principale per questi felini è sempre quella dell'adozione, che però nel periodo estivo registra forse il periodo peggiore, perché aumentano anche questo tipo di entrate e diminuiscono le uscite. Esatto, esattamente. Diciamo che ormai già da un paio di settimane i possibili adottanti sono notevolmente diminuiti, perché quando comincia il caldo vuoi che la gente va in vacanza, che va giustamente al mare, per cui diciamo che le adozioni si fermano un attimo, per di solito è così il trend, poi vediamo. Salvo poi dopo il 15 di agosto, dopo il ferro agosto, allora lì ricominciano. E Daniele Malandrino, consigliere comunale, nonché coordinatore pesarese di Fratelli d'Italia, fa da cassa di risonanza le segnalazioni di alcuni residenti di Ginestreto che denunciano l'incuria di questa frazione. Malandrino segnala come il panorama che contraddistingueva l'antico castello non sia più fruibile a causa di piante che non vengono potate da tempo in memore. Così come il piazzale antistante alla chiesa, che è pieno di alter bacce, e le stradine del centro sono coperte di vegetazione. Una dimenticanza delle aree periferiche che viene dunque segnalata a gran voce nei confronti dell'amministrazione comunale. Inizia lunedì 24 luglio delle 17.30, alle ore 20, il percorso condiviso per creare i volontari di Pesaro 2024. Gli interessati sono chiamati a partecipare all'incontro in programma nella Sala della Repubblica delle Teatro Rossini, nella giornata che concluderà gli eventi preparatori della Capitale Italiana della Cultura 2024. Ed ora parliamo di Miral Teatro d'estate. La rassegna estiva di teatro e musica in corso nell'anfiteatro delle Parco Miralfiore, che domani, sabato, a partire dalle ore 21.30, veda esibirsi Nino Frassica, accompagnata dall'OS Pluggers Band, gruppo di straordinari musicisti con cui sta confezionando il Lettour 2000-3000. Un'operazione di memoria musicale sotto la forma di un coinvolgente concerto cabaret, con un repertorio formato da oltre 100 brani rivisti e corretti in cui canzoni famosissime per mantenendo la propria identità sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. E compie bene 20 anni Hangart Fest, la rassegna di danza contemporanea di richiamo internazionale che torna in città fra agosto e settembre. Hangart Fest taglia il traguardo della ventesima edizione. Lo fa con una ricca rassegna presentata nella Biblioteca Oliveriana che metterà in scena 22 eventi, 18 performance, 5 coproduzioni, 4 debutti e una lunga serie di incontri, laboratori e installazioni multimediali volte a celebrare l'anniversario a Cifra Tonda. Una ventesima edizione prevista dal 25 agosto al 16 settembre col valore aggiunto del connubio fra danza contemporanea e musica dal vivo. La maggior parte degli spettacoli che proponiamo quest'anno avranno musica dal vivo. Ecco, questa ci si è arrivati un po' per caso però è una caratteristica importante. Questo è abbastanza raro nella danza contemporanea soprattutto nella giovane danza contemporanea. Vedrai in scena questo spettacolo giovani musicisti del Conservatorio Rossini con giovani danzatori del liceo coreutico ma questo è soltanto uno. Lo spettacolo di inaugurazione del festival ad esempio che si terrà a Villa Imperiale ebbene vedrà in scena 12 danzatori e 8 musicisti con musica dal vivo in radio Zastava che è una formazione multietnica. Ecco, per me questo spettacolo dal titolo Bolero con la compagnia aerea non ho timore nel definirlo un colossal perché per la danza contemporanea ripeto, 20 elementi in scena davvero è una rarità. Si parte dunque da Villa Imperiale in una edizione che sarà senza la chiesa della Maddalena abituale quartier generale di Hangar Fest che porta i segni del terremoto di novembre. Il festival sarà comunque dislocato in diversi luoghi simbolo di rilevanza storica e artistica per la città. Attraverso la creatività solita di Hangar Festival di creare più spazi e più momenti di incontro con la danza contemporanea nella città a partire dal cortile di Parazzontaldi messo a disposizione la fondazione Cassa di Risparmi a partire dal luogo dove ci troviamo ora cioè l'ente Olivieri Biblioteca e Museo Riveriani dal cortile alla sala dello zodiaco passando per altri luoghi chiave pensati anche proprio per la danza recentemente restituiti come la sala della Repubblica e del Teatro Rossini che sarà un grandissimo spazio anche una novità ovviamente in questa direzione nel nuovo assetto pensato appunto particolarmente per la danza ma in generale diciamo una città pronta ad accogliere nello spirito di Hangar artisti da tutta Italia da tutto il mondo. luoghi differenti che ospiteranno spettacoli internazionali di grande impatto artistico. Una bella performance di Elisabetta Consonni con il suo gruppo ma non solo Marie-Caroline Ominal un'artista svizzera molto eccentrica molto all'avanguardia per le cose che propone e poi una sfilza di artisti d'Israele che sono i nuovi coreografi israeliani. Un festival che si pone alle ventesime edizioni di assoluto rilievo nazionale e internazionale e soprattutto uno dei migliori biglietti da visita rispetto alla Capitale 2024 che ci aspetta. E dai vent'anni di Hangart Fest ai dieci anni dell'angolo della poesia un'altra rassegna che come Hangart Fest è pronta ad un cambio di location. Sì, l'angolo della poesia giunto alla decimedizione che non è un numero banale e soprattutto è un appuntamento molto atteso da chi conosce Pepino Saponare chi conosce la formula dell'angolo della poesia che quest'anno in realtà si sposta verso un altro angolo dall'angolo di Palazzolici dove sono in corso i lavori all'angolo non meno suggestivo però della biblioteca San Giovanni dove anche lì le mura storiche perimetrali costituiscono un muro di per sé poetico che farà un po' da contenitore anche delle suggestioni che Pepino riuscirà a portare in quei giorni al centro quest'anno il tema delle minoranze linguistiche quindi un viaggio per l'Italia per valli se non sconosciute di cui comunque non si parla tutti i giorni nella cultura mainstream ma che sarà invece l'occasione per incontrare storie intanto molto importanti artisti molto importanti e anche diciamo comunità e quindi ci saranno spesso anche persone che si sposteranno dal resto d'Italia per venire a Pesaro a raccontare e rimandare queste storie penso che sia uno dei migliori punti di partenza verso la capitale italiana nel 2024 dove il multiculturalismo e l'incontro saranno sicuramente al centro il tema della rassegna è la scoperta di tante culture dentro di noi vicino a noi sopra di noi sotto di noi che ci circondano di cui non ce ne siamo mai occupati ho resi conto a volte addirittura ma soprattutto in quanto proprio minoranti in quanto minoranti forse nell'era dei numeri nell'era della maggioranza tra costante e prepotente oppure ecco non abbiamo mai ascoltato in realtà sono dei luoghi fantastici di sapere di saperi di conoscenze e di 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 grande grandissime culture il programma è da lunedì al sabato 24 alle ore 21 e 15 inizieremo con i catalani questa questa minoranza che vive in Sarlegna insomma a confine una città attorno al Ghero e poi avremo parleremo del grico il grico è una lingua ereditata dalla magna grecia insomma dalla grande tradizione greca di 2000 anni fa quindi avremo il grico salentino parleremo il grico e il grico calabro sono due tipi diverse poi abbiamo l'occettano questa lingua francese francofona e poi i cimbri i giovedì iniziati i cimbri venerdì 28 l'arberes sabato 29 ladino i ladini e con quest'ultimo servizio termina qua la nostra edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo gli appuntamenti in onda a cominciare dalla nostra prima serata questa sera alle ore 21 e 20 potremo vedere la sfilata di moda andati in scena bagni agata numero 57 sfilata dalle titolo un pezzo di cuba e vi ricordo il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa anche domani mattina sabato mattina la rassegna stampa delle sabato saremo in diretta alle ore 7 e 20 in diretta anche sulla nostra pagina facebook e sulla nostra app vi ricordo anche le repliche 8 e 20 12 e 20 14 e 20 e 18 e 20 e a proposito della nostra applicazione vi ricordo come sempre di scaricarla perché è gratuita sia per android su lo store google play e sia per quanto riguarda dispositivi apple sul app store e termina qua questa nostra edizione di Rossini News io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti